Ha segnato la trasformazione del modo di intendere la politica italiana. Conosciamo oggi qui a Mattina Live la persona attraverso l'esperienza diretta del nostro ospite che per l'appunto ha conosciuto da molto vicino Bettino Craxi. Buongiorno all'Avvocato Marcello Lala. Buongiorno. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. La sua presenza per raccontare la storia di un uomo, di un politico, ma la storia di chi ha cambiato il volto del nostro paese. Bettino Craxi, lei ha avuto la possibilità di conoscere la sua parabola esistenziale ma anche politica. Partiamo dal primo punto. Come è nata la vostra amicizia? Ma l'amicizia è nata perché per la verità io ero un giovane iscritto al Partito Socialista, un giovanissimo consigliere comunale della nostra città, quindi ero un craxiano doc perché il leader del partito era Craxi, per me era il grande mito del leader politico. E quando sono successe e accadute le tragiche vicende di Tangentopoli e lui fu costretto ad andare a Ramamette, io incominciai a scrivergli. E lui cominciò a rispondere a queste mie lettere che mandavo da giovane studente universitario al Presidente. Insomma, cominciò questo dialogo epistolare quando Bettino Craxi trovava... Sì, nel 93. Quando lui era in esilio, no? Sì, sì, a Ramamette. E nel 93 e 94 le prime lettere che ci siamo scritti. Poi nel corso del tempo sono diventato un grande amico del figlio, Bobbo Craxi, che poi fu candidato anche qui alle elezioni europee con i socialisti dello SDI e incominciamo a frequentarci. Da lì, diciamo, è nata anche la mia frequentazione in casa perché sono andato varie volte a Ramamette, sia con Bobbo che con altre persone che lo andavano a trovare. E siamo diventati, non voglio dire amici, ma una bella frequentazione perché poi lui amava moltissimo stare con il giovane e parlare con il giovane. Che cosa ha significato per lei con l'incontro, con quel dialogo epistolare, con Bettino Craxi, in quel periodo? Ma... Che con lei era giovane, quindi... Sì, da ragazzo ovviamente era il sogno... Ha le sue ideali anche. È certo, era il sogno che si realizzava di poter parlare con un grande leader politico, con un uomo che aveva ispirato tutta la tua vita, non solo adolescenziale ma anche da studente universitario perché io ero e sono un fervente, diciamo, credente nell'ideale socialista che ritengo ancora attuale, il socialismo riformista e quindi insomma per me era veramente aver realizzato una cosa bellissima nella mia vita di potermi confrontare con un leader politico di quello spessore, di quella bravura. Di quella bravura, uno straordinario statistico, diciamo in apertura, tra l'altro abbiamo proprio delle immagini che la vedono presente anche con la famiglia di Bettino Craxi e lei ha deciso di donare alla fondazione Craxi anche un prezioso carteggio di cui abbiamo appunto l'immagine di questa prima foto in occasione che l'ha vista appunto molto vicino alla figlia Stefania. Che emozione ha provato in quel momento, ma soprattutto in quei luoghi assieme ai familiari di Bettino Craxi. Io sono tornato in quei luoghi dopo 5-6 anni, 7 anni, perché poi insomma li avevo frequentati sia durante la vita di Craxi, ma anche dopo perché ero andato a trovare la famiglia. Sono state grandi emozioni perché ho ritrovato lì tantissimi amici tunisini ancora innamorati della persona Craxi. Craxi per loro era un grandissimo punto di riferimento. C'era l'uomo al di là della politica. C'è stato un momento molto emozionante quando siamo andati a trovare dei pescatori dove lui andava sempre in questa capanna sul mare. Questa capanna è diventata una piccola casetta proprio Craxi a Craxi che gli aveva dato la possibilità di mettere delle mura a quella paglia che avevano sul mare. Quindi insomma ci sono tantissimi aneddoti che si potrebbero raccontare. Però questo è stato un momento emozionante perché consegnare una cosa tua che era questo carteggio tra me e Bettino alla fondazione è stato per me veramente... Quanto l'è costato? Molto, però ho pensato... In termini proprio di affetto. Sì, però ho pensato che la fondazione era la cosa più giusta perché lì rimarranno per sempre. Per tutta la vita ci sarà questo ricordo di Bettino Craxi, questo carteggio tra me e lui e ovviamente la fondazione poi ha tutti i donatori segnati all'interno del sito e di tutto e quindi insomma questo mio rapporto è sancito in questa mia donazione che veramente è stata una cosa emozionante. Stefania è stata molto grata e lieta ovviamente, molto carina su questa cosa. Tra l'altro abbiamo anche delle foto che vede la presenza dei ragazzi, dei ragazzi che per questo punto hanno vissuto con commozione e partecipazione. Io le chiedo, ecco, in questo periodo storico, laddove probabilmente bisognerebbe reintendere il modo di fare politica, Bettino Craxi sia una personalità che debba essere studiata, portata alla luce, proprio come forma di studio alle nuove generazioni, ai ragazzi? Assolutamente sì e ne sono ancora più convinto dopo questo viaggio perché tutti i ragazzi che erano presenti, a parte che erano preparatissimi, ma avevano tantissime domande da fare e curiosità da chiedere a noi che l'avevamo conosciuto sulla figura di Bettino Craxi, sul piano proprio politico. È inevitabile che il paragone con l'attualità veniva fatto perché ovviamente lo spessore culturale e politico dell'uomo non va di pari passo con lo spessore culturale e politico dei politici attuali, ahimè. Quindi insomma i ragazzi erano veramente affascinati anche dalla visione internazionale dell'uomo, cioè la possibilità di avere questi rapporti strettissimi con i palesi al di là del Mediterraneo e non solo. E quindi insomma le curiosità erano tantissime, in particolar modo loro chiedevano del rapporto con Arafat, con il leader palestinese, ci sono tantissime foto che li ritraevano insieme anche a casa Craxi, quindi insomma il rapporto con Lady Diana, con la monarchia inglese, con la Thatcher, quindi insomma tante cose che incuriosivano moltissimo i giovani presenti a questa commemorazione. In quest'ottica, ecco, sulla base delle sue parole, lei lo ha detto poc'anzi, è rimasto molto legato alla famiglia di Craxi, sia a Bobo il figlio ma anche a Stefania, stiamo parlando di giovani studenti, stiamo parlando di politica, quella attuale. Secondo lei il ricordo dell'uomo politico e quindi di quello che tutti quanti noi conosciamo, dell'epilogo politico dell'uomo, abbia in un certo senso offuscato il grande studioso che Bettino Craxi era, quindi l'uomo soprattutto che era, è la grande personalità, lo spessore culturale che aveva Bettino Craxi prima e poi l'uomo politico dopo. Ma diciamo che c'è stata una certa parte della storia recente del nostro paese dove Craxi era individuato come il capo dei ladri e questo ovviamente nel corso degli anni sta svanendo perché ovviamente la verità sta emergendo a galla, sta uscendo fuori e tra l'altro la gente comincia a dire che Craxi era un capo espiatorio, moltissime persone che più utilizzato anche per motivi politici importantissimi, perché Craxi era quello del famoso fatto di Sigonella, dove accerchiò i marines americani che volevano intraprendere un'azione militare sul territorio italiano. Tutti ormai dicono che Craxi abbia pagato anche quello, Craxi probabilmente ha pagato quando chiamò Gheddafi per dire che lo stavano bombardando, lo fece scappare da casa sua e quindi salvò Gheddafi in quell'occasione e lo salvò perché c'erano dei motivi specifici dal punto di vista degli equilibri internazionali nel Medio Oriente. Craxi è quello che è andato in Parlamento e ha detto davanti a tutti che tutti i partiti soffrivano del finanziamento illecito, tranne il partito radicale, e nessuno sia alzono. Secondo lei, ad oggi, conoscendo lei personalmente e più approfonditamente i fatti ed eventi che hanno riguardato questa parabola esistenziale dell'uomo e del politico di Craxi, secondo lei Bettino Craxi ha pagato uno scopo molto più alto? Assolutamente sì. Ha dovuto pagare rispetto a quello che conosciamo dello scenario degli uomini politici di oggi? Assolutamente sì. Io personalmente ho visto Craxi piangere perché era relegato in questo esilio di Ammamet. Ma guardi, la soddisfazione più grande è stata perché io mi sono regato lì con Ettore Rosato, che è il portavoce di Italia Viva, nonché responsabile organizzativo del Terzo Polo, e con alcuni parlamentari di Forza Italia. Quando siamo arrivati lì, molti di loro non conoscevano la storia recente di Craxi. Avevano solo sentito dire... E a proposito della storia, lei sicuramente l'ha visto anche i film di Gianni Amelio, qual è stata la sua reazione, perché molti anche in quest'ottica hanno individuato, hanno fatto riferimento ad un legame di amicizia fra lui e ad un militante più giovane di lui e hanno visto in questo legame di amicizia proprio la sua figura. Sì, sì, sì. Quindi qual è stata la sua reazione, ma soprattutto gli è piaciuto il film? Allora, il film, ovviamente ci sono delle parti romanzate, ma Favino è stato, ne parlavo proprio con Stefania da Mamet, è stato veramente bravissimo. Bravo, sì. Lo faceva uguale, praticamente. Io ho visto Craxi nelle immagini di questo film. Quindi, insomma, poi Bettino aveva un rapporto molto stretto anche con i giovani. Gli piaceva parlare con i giovani, confrontarsi. Questa sua ironia, un po' de modè, era tipica della persona che veniva dalla guerra e che non aveva mai avuto una gioventù. Lui diceva, io non sono stato mai giovane, perché lui ha dedicato tutta la sua vita alla politica. E quindi... Lei magari poteva rivedere il giovane che sarebbe potuto essere lui? Assolutamente sì, perché io ho iniziato a 15 anni a fare politica. Quindi, insomma, quello era un corso sonorum che si faceva. Prima c'era una formazione, che adesso purtroppo non c'è più. La politica non era una scorciatoia nella vita. Era semplicemente una passione e una carriera che si faceva nel corso del tempo per arrivare a raggiungere i catteli. Da giovanissimi. E appunto da giovanissimi. Quale eredità le ha lasciato Bettino Craxi, le chiedo? L'eredità che lei dovrebbe, che lei sicuramente si pone... Assolutamente. ...portare avanti, di tramandare... Culturale, sicuramente. La libertà è la prima cosa. Noi, i Craxiani, i Doc, sono uomini liberi. Nel senso che non riconoscono determinati poteri, non riconoscono, diciamo, i soprusi, non riconoscono la possibilità di poter fare andare le persone avanti non per merito. E io, che posso dire di essere stato un ragazzo, un giovane, che è andato avanti per merito, perché mio padre era un vigile urbano, mia mamma una casalinga, proprio grazie ai socialisti, al socialismo dell'epoca, sono riuscito ad avere una certa carriera, perché sono stato sempre un uomo libero. Un uomo libero oggi, siamo nel 2023, le chiedo se oggi, secondo lei, può esistere un uomo politico del genere, ma soprattutto uno studioso simile a Bettino Craxi nel nostro paese. Allora, quella stagione politica, secondo me, è irripetibile, perché anche i caratteri erano diversi, nel senso che erano persone... Anche la società. La società, ma i caratteri, perché erano persone che si forgiavano dalla guerra. Quindi avevano visto grandi sofferenze. Craxi era uno che aveva aiutato gli ebrei a scappare dai nazisti, era uno che aveva visto la resistenza, era uno che frequentava, aveva un grande maestro che era Nenni, che era stato un antifascista, uno che aveva lottato, che aveva subito il carcere. Insomma, erano altre persone, persone che avevano studiato da soli, erano autodidatti, quindi leggevano centinaia di libri. Oggi la politica è nettamente cambiata. Ci sono personaggi politici di livello, che però non possono essere sicuramente paragonati a quei politici di quell'epoca. Chi, per esempio? Ma io personalmente vedo Matteo Renzi, per la verità un leader politico molto bravo, astuto, intelligente, e che ha una visione. Non vedo la visione in altri... Per esempio una che ammiro molto è Giorgia Meloni, che è una ragazza che si è fatta da sola, è cresciuta da sola, è andata avanti per merito, dal punto di vista politico... Con grande coerenza. Con grande coerenza, assolutamente. Senta, ma tutta flash, ha pensato di scrivere un libro? No, 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 non è ancora il momento. Ci pensi? Lo farò, probabilmente lo farò. Grazie, grazie per averci raccontato dello statista, del grande studioso, dell'uomo, prima, del politico, poi... Posso aggiungere una piccolissima cosa? Craxi, infatti, sulla sua tomba ha scritto La mia libertà equivale alla mia vita. Quindi è sempre... È l'emblema. È la chiosa finale di questa avventura. Grazie, grazie a Marcello Lala per essere stato con noi, per averci raccontato... ...dell'uomo e del politico, del grande statista e studioso Bettino Craxi. Piccolo Black, restate con noi. Piccolo Black, restate con noi.